In settimana è tornato a parlare Mario Draghi e qualcuno lo vorrebbe a Presidente della Commissione Europea. Ci parla di Mario Draghi, Marco Travaglio nel Passaparoli. È tornato il culto mariano, non nel senso di Maria Vergine, ma nel senso di San Mario Vergine e Martire. Corriere della Sera ha un piano, cambiamenti radicali, svolta, Repubblica, Evangelica, l'Europa secondo Draghi, come i padri fondatori, chi può suggerire il nome di Mario, i big in campo, la carta Draghi, la stampa, Draghi scende in campo, la scossa di Super Mario, le chance di Mario, vanno ascoltate le verità di Draghi, messaggero, Draghi sferzata all'UE, giornale, Draghi torna in campo, ridiscende in campo, un manifesto presidenziale, il manifesto, la scossa di Draghi, cambiare tutto, la frustata di Draghi sul foglio, la svolta radicale sul domani, riappare Draghi, proprio un'apparizione per l'unità, vuole riprendersi l'Europa. Simone, UE, il piedicista, il centro esulta, il dubbio, la promessa di Draghi, la rivoluzione, con lui una vera difesa europea, il ciclone Draghi, che avrà fatto di tanto straordinario per meritare questa cascata di bava e di saliva, un discorsetto in cui ha anticipato alcune banalità vecchie come il cucco, di questa relazione sulla competitività europea che la Commissione europea scaduta, quella della von der Leyen, anzi un po' marcia, gli ha commissionato prima delle elezioni ovviamente, pensierini da seconda elementare, in cui Draghi ha detto nove volte la parola difesa e zero volte la parola pace e diplomazia. Infatti sui siti internazionali che contano come politico Financial Times e Bloomberg non gli hanno dedicato nemmeno una riga. Ma in Italia, qualunque cosa dica, fosse pure la lista della spesa, viene sempre accolto come il quinto Vangelo, mani giunte, sguardi rapiti, estasiati, bocche a culo di gallina. Ricorda un po' gli apostoli discepoli di Brian di Nazareth del film dei Monty Python, che veniva scambiato suo malgrado per il nuovo Messia. Dicci maestro, dicci qualcosa, è lui, andatevene via, e come dobbiamo andarcene? E io che ne so, lasciatemi in pace, dacci un segno. Ma un segno ce l'ha già dato portandoci in questo posto? Ma non sono io che vi ci ho portati, ci siete venuti da soli, diceva il povero Brian, cercando di scollarsene di dosso, e quelli niente. Maestro, il tuo popolo ha camminato molte miglia per stare con te, sono stanchi e non hanno mangiato. E non sarà mica colpa mia, diceva lui. Ma non c'è cibo su questa montagna desolata, boh ci sono dei cespugli di Ginepro laggiù, provate. Miracolo, ha riempito di frutti quei cespugli che hanno generato bacche di Ginepro. E lui, eccetto che hanno generato bacche di Ginepro, sono cespugli di Ginepro. Non ci vedevo e ora ci vedo, disse uno, che subito dopo finì in una buca perché continuava a non vederci. Miracolo del Messia, mi ha pestato un piede, miracolo, pesta un piede anche a noi, Signore Messia. Non sono il Messia. Sì, tu sei il Messia, io me li intendo perché ne ho seguiti parecchi. Io non sono il Messia, come ve lo devo dire, lo giuro su Dio. Soltanto il vero Messia nega la sua divinità. Cosa? Ma così cercate di incastrarmi. Vabbè, allora sono il Messia. L'ha detto, è lui il Messia. Ecco, la stessa cosa succede a Draghi. Ma torniamo a quel discorsetto perché una novità l'ha detta in tanto vecchiume. Un durissimo attacco contro le politiche europee seguita alla crisi finanziaria del 2011. Abbiamo perseguito la strategia di abbassare il costo dei salari gli uni rispetto agli altri. E combinando questo con una politica fiscale prociclica, l'effetto è stato di indebolire la domanda interna e di minare il nostro modello sociale. Sante parole. Ma chi sono i cattivoni che hanno imposto di abbassare i salari per difendere l'austerità di bilancio? Le autorità europee, di cui faceva parte Draghi come presidente della BCE. Quindi praticamente si sta criticando da solo o allo sdoppiamento della personalità o è una furbata per agguantare un'altra poltronissima in Europa predicando politiche opposte a quelle che predicava dieci anni fa. Però lui è fatto così, passa da una poltrona all'altra perché deve sempre salvare qualcosa. C'è sempre qualcosa che Draghi deve salvare. La lira, le privatizzazioni, banca d'Italia, le banche italiane, l'euro, la Grecia, l'Italia e adesso l'euro. Grazie a tutti.